Saltata lo scorso 29 maggio la seduta monotematica del Consiglio Comunale di Campobasso, si tornerà a parlare di urbanistica domani, a causare in rinvio la volta precedente una pregiudiziale della maggioranza che aveva eccepito sulla competenza del Consiglio a trattare la questione all'ordine del giorno. L'opposizione di Palazzo San Giorgio si è detta pronta ad avanzare le proprie proposte, invitando al contempo la Giunta Battista ad avere le idee chiare e a non far trascorrere del tempo prezioso. Il 26 giugno ritornerà in Consiglio Comunale l'argomento che ci vede abbastanza intenzionati, avanzare delle proposte. Va detto che abbiamo ripresentato la richiesta, quindi come opposizione, e abbiamo allegato alla richiesta anche una mozione che dà dei precisi indirizzi per ciò che concerne i parametri urbanistici in quelle zone particolari, come la Lucarino, che, così come dice il piano casa, impongono un intervento entro determinati tempi da parte dell'amministrazione. Due sono gli aspetti che vogliamo evidenziare. Innanzitutto, riappropriarsi del ruolo di programmazione che il Comune deve avere per quanto riguarda la pianificazione del territorio. Due, avere le idee chiare. Non è possibile che anche determinati discorsi, faccio riferimento all'Ariston, faccio riferimento a Mocivole, a Piazza Prefettura o ad altri interventi del genere, si debbano discutere sui giornali o nelle segrete stanze, senza che le sedi preposte, gli organismi preposti, siano informati. Noi, ufficialmente, sia in Commissione che in Consiglio, non ne sappiamo nulla. Quindi vogliamo riportare nelle sedi giuste questi argomenti per fare in modo che il Consiglio, che è l'organo democratico dell'amministrazione, si esprima al riguardo.